Ciao, benvenuto ad un nuovo audio di Magnetismo Personale. Oggi ti dirò come fare per attirare l'attenzione di una ragazza. Ti darò delle strategie vincenti per riuscirci. Riuscire ad attirare l'attenzione di una ragazza nei tempi moderni è sempre più difficile. Siamo tutti costantemente distratti, soprattutto a causa della tecnologia. Viviamo nell'epoca dove il nuovo oro è proprio l'attenzione. Siamo tutti ad un paio di tap sullo schermo alla persona dei nostri sogni, anche se vive a migliaia di chilometri da noi e non la conosciamo di persona. Seppur attirare l'attenzione di una ragazza è diventato difficile, è comunque fondamentale avere successo in quanto solo dopo che riusciamo ad attrarre l'attenzione che possiamo pensare di mettere in pratica le nostre tecniche di seduzione. Proprio per questo motivo che all'interno di questo audio vedremo come attirare l'attenzione di una ragazza correttamente e riuscire, quindi, successivamente a sedurla. Ma prima di farlo, ti ricordo che se ci stai ascoltando da YouTube puoi iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi contenuti, oppure di seguire i nostri vari profili di riproduzione streaming, come iTunes, Spotify o altri. Ma torniamo a noi. Ti chiederai qual è il miglior metodo per attirare l'attenzione di una donna in poco tempo. Il miglior metodo per attirare l'attenzione di una donna è essere la mucca viola. Se sei un lettore e un ascoltatore abituale del mio blog sulla seduzione, sai già benissimo di cosa sto parlando. Lascia che mi spieghi meglio su cosa vuol dire essere la mucca viola. Immagina che mentre stai guidando vedi al lato della strada un branco di mucche. Noterai sicuramente l'insieme di mucche, ma non una mucca in particolare. Adesso immagina che mentre stai guidando vedi al lato della strada un branco di mucche, ma una tra queste mucche è di colore viola, decisamente insolito per una mucca. Per ovvi motivi la mucca viola è quella che attira la tua attenzione, e riesci facilmente a riconoscerla fra tutte le altre mucche presenti in quel branco. Tutto questo avviene in modo automatico, senza fare nessuno sforzo mentale in particolare. Vedi, lo stesso accade nelle relazioni. Se vuoi attirare l'attenzione di una ragazza, devi essere proprio come una mucca viola. Essere una mucca viola, metaforicamente parlando, vuol dire diventare un uomo che si eleva rispetto alla massa di uomini presenti lì fuori, che in questo momento stanno tentando di attirare l'attenzione della tua stessa ragazza, proprio come stai facendo tu. L'errore che molti uomini compiono è quello di tentare tutti i modi per attirare l'attenzione di una donna. In realtà, attirare l'attenzione di una donna è estremamente facile nel momento in cui sei un uomo che si eleva rispetto alla massa di uomini presenti lì fuori. Vediamo quindi come puoi, nel pratico, diventare un uomo capace di attirare l'attenzione di una ragazza. Come abbiamo visto quindi fino ad ora, la tua attenzione dovrà essere sul lavorare su te stesso, affinché attirare l'attenzione di una ragazza che ti interessa sarà per te facile. Questo è un argomento centrale del mio blog. Non è un caso che su questo argomento abbiamo dedicato un intero manuale, ovvero metodo magnetico, che ti consiglio di scaricare immediatamente. Puoi trovarlo sul nostro blog magnetismopersonale.com. Si tratta di un argomento centrale, in quanto nel momento in cui diventerai un uomo capace di attirare l'attenzione di una donna, la tua strada per sedurla sarà per te in discesa. In sostanza, lavorare per diventare un uomo magnetico è quella cosa che, dopo averla fatta, tutto è più semplice e naturale. Ti rivelo, con il mio metodo magnetico, il modo per attrarre a te qualsiasi donna desideri in poche settimane. E se ti dicessi che dopo aver letto questo manuale e applicato i concetti che ti rivelo, saranno le donne a volerti al loro fianco. Questo è quello che è successo agli oltre 400 uomini che hanno già scaricato questo manuale e messo in pratica queste potenti strategie di miglioramento personale. Ma andiamo avanti e vediamo comunque alcune cose che puoi applicare da subito. Curare il tuo aspetto fisico. La prima cosa che sicuramente dovrai fare è curare il tuo aspetto fisico. Lo so, lo so, è scontato, potrai pensare. Tuttavia, quando parlo di aspetto fisico, non parlo solamente del mettersi a dieta oppure mettere massa, essendo un qualcosa che sicuramente già saprai che dovrai lavorarci sopra. Piuttosto, quando parlo di aspetto fisico, parlo anche del trovare nuovi tagli di capelli, sistemare la forma delle sopracciglia, avere sempre la barba rasata, tagliare bene le unghie e averle pulite. Sono soprattutto i dettagli a fare la differenza. Ci tengo a fare un'ulteriore precisazione su un fenomeno di cui vedo spesso parlare. Sui forum dedicati agli uomini, vedo focalizzare l'attenzione sulla simmetria del viso e del corpo. Avere un viso e un corpo simmetrico effettivamente impatta positivamente sulla tua capacità di attrarre una donna. Tuttavia, non è così importante come credi. Attirare l'attenzione di una donna è un qualcosa che si compone di diversi elementi. Ci sono diversi elementi che riguardano solamente l'aspetto fisico e altri elementi che riguardano tutt'altro che l'aspetto fisico, di cui vedremo più avanti proprio in questo audio. Il secondo punto è cura il tuo stile. Parliamoci chiaro, tutti gli uomini si vestono allo stesso modo. Quando sono per strada e mi capita di osservare gli uomini, noto che sono tutti vestiti uguali. Tutti con lo stesso jeans, con le stesse magliette e le stesse giacche. Avere uno stile proprio, che si differenzia dalla massa, è un altro importante tassello per riuscire ad attirare l'attenzione di una ragazza, soprattutto dal vivo. Non devi essere per forza un esperto di moda o un appassionato per riuscire a curare il tuo stile. Quello che puoi fare è semplicemente trovare in giro per il web idee di stile uomo e replicare. Personalmente uso spesso l'app di Zalando per trovare nuovi outfit, in quanto puoi trovare sul loro sito una sezione dove ti vengono consigliati diversi outfit dalla quale puoi scegliere. Eh no, questa non è una marchetta a Zalando, dato che non mi pagano per dirlo. Magari. Terzo punto, raggiungi obiettivi. Ma che cavolo c'entra in raggiungere i miei obiettivi con il riuscire ad attirare l'attenzione di una ragazza? Lo so, lo so, adesso probabilmente ti stai chiedendo questo. Tuttavia lascia che mi spieghi meglio, dato che c'entra e come, ed è anche più di quello che pensi. Le donne sono alla ricerca di uomini capaci di raggiungere obiettivi. Questo è un dato di fatto e ha radici ancestrali. Più dimostri a una donna di essere capace di raggiungere un obiettivo, più sarai capace di attrarre la sua attenzione, senza fare nulla, ma semplicemente concentrandoti su te stesso. Questo è lo stesso motivo per la quale le donne sono attratte da uomini che si trovano nella parte alta della scala sociale. Parliamo ad esempio di calciatori famosi, attori, cantanti e chiunque altro di famoso grazie a una specifica abilità. Chiaramente adesso ho estremizzato, e non sto dicendo che devi diventare famoso affinché tu possa riuscire a catturare l'attenzione di una donna. Piuttosto, quello che voglio dirti è che più sarai capace di raggiungere obiettivi nel tuo piccolo, più una donna lo noterà e quindi sarà interessata a saperne di più su di te. Proprio per questo motivo che devi darti degli obiettivi e raggiungerli. Che si tratti di avere un fisico muscoloso, imparare una nuova lingua, saper suonare uno strumento, arrivare fino alla fine di una maratona o vincere il contest di canto alla sagra del paesello. Poco importa, l'importante è dimostrare di avere la capacità di riuscire a raggiungere gli obiettivi. Il quarto punto è migliorare il tuo approccio. Pochi uomini sono davvero capaci di approcciare una donna. Questo è un dato di fatto, dato che molti uomini, forse compreso te fino a poco fa, operano con le donne per sentito dire, oppure grazie ai tentativi nel corso degli anni. La verità è che puoi trovare da subito il miglior approccio con le donne andando a studiare quelle che sono le leve psicologiche sulla quale fare pressione per avere successo. Non puoi pretendere di migliorare il tuo approccio in un solo giorno o in una sola settimana. Proprio per questo motivo che ti consiglio di leggere regolarmente il mio blog magnetismopersonale.com, dove ogni settimana pubblico nuovi articoli e puoi quindi ottenere quelle preziose informazioni che ti permettono di migliorare il tuo approccio. Nel momento in cui sei capace di migliorare il tuo approccio, proprio perché lì fuori davvero pochi uomini sono capaci di approcciare una donna, e su questo ci metto la mano sul fuoco, che vai subito ad attirare l'attenzione di una ragazza. Lo stesso vale se hai intenzione di conoscere una ragazza tramite messaggi, dove mentre tutti gli altri uomini avviano una conversazione con un semplice ciao oppure hey, tu dovrai trovare il tuo approccio unico nel suo genere. Su questo argomento ho dedicato un intero percorso, che ho chiamato metodo chat magnetica, a cui ti consiglio di dare uno sguardo se vuoi approfondire le strategie per approcciare una ragazza tramite messaggi. Il quinto punto è imparare a comprenderla. Se pochi uomini sono capaci di approcciare una donna, ancor di meno sono gli uomini che sono in grado di comprendere realmente una donna. Come nel caso precedente, è inevitabile che tu sia capace di attirare la sua attenzione se si accorge che tu sei in grado di comprenderla, come nessun uomo è capace di fare. Il problema per la quale molti uomini non comprendono una donna è perché quando si rapportano con lei ragionano con la testa di uomo, senza realmente mettersi nei suoi panni. La verità è che la mente di una donna è completamente differente dalla mente di un uomo. Mentre la mente di un uomo ragiona basandosi sulla razionalità e quindi lavora per dare una spiegazione logica ad ogni azione, la mente di una donna ragiona basandosi sulle emozioni. E quindi non sempre vi è una spiegazione logica a determinate azioni, in quanto spesso le azioni sono solamente il frutto delle emozioni che lei sta vivendo in quel momento. Comprendere realmente una donna vuol dire innanzitutto comprendere come funziona la sua mente, affinché di conseguenza sia più facile comprendere le sue azioni e accettarle. Il sesto punto è fai in modo che investa su di te. Un trucchetto per attirare l'attenzione di una ragazza è sicuramente quello di fare in modo che lei investa su di te, anche se si tratta di un investimento minimo agli inizi della conoscenza. Puoi ad esempio fare in modo che lei ti faccia un favore, ripeto anche minimo va bene uguale. Quasi sicuramente in questo momento ti starai chiedendo il motivo per la quale questo trucchetto funziona. Lascia quindi che te lo spieghi con calma. Tutti noi esseri umani, a causa di meccanismi psicologici, siamo attratti da coloro per la quale noi investiamo qualcosa e non da coloro che investono in noi. Eh sì, hai capito bene, proprio così. È più efficace attirare l'attenzione di una ragazza trovando il metodo per farla investire in noi, piuttosto che impegnarci solamente ad investire su di lei, sperando che lei apprezzi e ci dia attenzioni. Questo accade perché nel momento in cui investiamo in una persona, la nostra mente cercherà sempre di più conferme che abbiamo fatto la cosa giusta e che quindi non abbiamo sprecato tempo, energie o risorse. Si entrerà poi in quel circolo dove più cerchiamo conferme che quello che abbiamo fatto è la cosa giusta, più siamo propensi ad investire di più e quindi, come conseguenza, di avvicinarsi sempre di più ad una persona per non perdere gli investimenti fatti fino ad ora. All'interno di questo audio abbiamo visto alcune cose da sapere per riuscire ad attirare l'attenzione di una ragazza, affinché se durla sarà poi una strada in discesa. Come già ti ho anticipato all'inizio di questo audio, diventare l'uomo ideale per una donna è quella cosa da fare che ti renderà tutto più semplice. Una volta che sarai in grado di catturare l'attenzione di una donna, sei già a metà strada per sedurla. Proprio per questo motivo che ti consiglio di partire subito con il mio manuale Metodo Magnetico, che ti rivela tutte quelle strategie per riuscire a diventare l'uomo ideale per una donna e semplificarti la vita di dieci volte nel sedurre le donne. Ti rivelo il metodo magnetico per attrarre a te qualsiasi donna desideri in poche settimane. Puoi trovare questo e altri articoli sul nostro blog e se vuoi, nelle nostre risorse premium, puoi trovare molto altro che può dare una svolta alle tue relazioni. Basta andare su magnetismopersonale.com slash risorse oppure direttamente dal nostro sito magnetismopersonale.com cliccare sul pulsante rosso risorse. Se questo audio ti è piaciuto e ci stai ascoltando da YouTube, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Se invece ci stai ascoltando da un servizio di streaming audio come iTunes, Spotify o altri, segui il nostro profilo per poter ascoltare anche altri contenuti interessanti. Ti do appuntamento al prossimo audio. Per oggi è tutto.